Buonasera e ben ritrovati sulla pagina di Affinity Dog. Stasera faremo un approfondimento sul cane ferale, detto volgarmente cane randaggio. È un cane come tutti gli altri nell'aspetto, ma non nei tratti comportamentali. Può essere figlio di randaggi e quindi ereditarne i comportamenti o vittima di un abbandono e trovato sia a vivere in strada. Questi cani non sono affini all'uomo, lo evitano, non socializzano con lui secondo i nostri schemi, ma non lo attaccano neanche, se non costretti. È difficile identificare che tipo di razze ci siano nell'anima di questi cani. Per lo più sono cani da pastore di grossa mole, molto spesso assomigliano a dei maremmani. Vittime di avvelenamenti perché sovraffollano aree urbane in cerca di cibo, a volte presi perché assomigliano a cani da caccia e poi vengono abbattuti perché non hanno le caratteristiche richieste. Sono quelli che io chiamo i fili di nessuno. I notiziali riportano che già dai primi mesi estivi del 2019 è notevolmente aumentata la loro presenza a causa degli abbandoni. Sono cani spaventati, i loro occhi trasmettono paura e diffidenza. A volte possono abituarsi a una vita casalinga, ma è un evento veramente rarissimo. L'unica via per arginare il fenomeno è una sterilizzazione di massa ad opera dei comuni che dovrebbero averli in carico. Non è la cosa giusta prenderli e metterli in canile, pensiamoci prima di farlo. Grazie per averci seguito, se volete informazioni su di noi scrivete sulla nostra mail info-afintidog.it, seguitici sulla nostra pagina facebook affintidog.educazione cinofile sul nostro sito www.fintidog.it